Benvenuti cari amici radioascoltatori con un nuovo appuntamento della rassegna stampa di Radio Piave, Martina Reoloni in studio per 20 minuti circa. Vi farò compagnia con la lettura delle principali notizie pubblicate sui quotidiani di oggi. Salutiamo anche chi ci segue in video sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Partiamo con il Corriere delle Alpi, oggi è lunedì 30 settembre, l'ultimo giorno di settembre. Titolo di apertura Confindustria Belluno Dolomiti Bertone partirà nel 2020 il polo meccatronico. Da definire pochi dettagli per l'attivazione del corso post diploma Palazzo Bembo la possibile sede. Puntiamo sulle competenze per il futuro delle imprese e creiamo opportunità per i giovani, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Sempre dalla prima teatro di Belluno le telecamere individuano i vandali del comunale. Andremo a leggere l'articolo a pagina 15. Si tratta poi di spalla del tema sanità di montagna, rabbia della CGL, il momento di protestare a Venezia. Andremo a leggere anche questo. Monsignor Lise saluta Agordo, dedicate l'ospedale a Papa Albino Luciani. L'approfondimento è a pagina 12. E poi ancora grande foto per la cerimonia che si è tenuta a rifugio Boz. Leli Piazzola è stata dedicata ai quattro caduti di falco. La memoria non deve essere statica, esaurirsi in un ricordo ma deve interagire con il presente. Andremo a leggere anche questo articolo. Don Luigi Ciotti ieri era a Longarone, il Vaiont esempio di corruzione, il sacerdote e presidente di Libera ha visitato la diga. E poi ancora taglio basso di pagina 6.000 partecipanti, un attore inglese sui percorsi della memoria. si parla sempre dei luoghi del Vaiont. Cominciamo a sfogliare Corriere delle Alpi andando alla prima pagina di Belluno. Partiamo proprio con la notizia con cui abbiamo iniziato la resegna stampa di oggi. Confindustria Belluno, Meccatronica, Alvia nel 2020, il nuovo corso a Palazzo Bembo. Già chiesta una deroga al numero minimo di iscritti per l'attivazione di un ITS, Berton, bisogna puntare sulle competenze per il futuro delle nostre imprese. L'ultimo appello in ordine di tempo è arrivato dalla sezione delle industrie metalmeccaniche che pochi giorni fa si è riunita a Palazzo Doglioni dal Mass. Le aziende del territorio hanno bisogno di profili tecnici specializzati altrimenti addio turnover e quindi capacità di competere, resistere ed esistere. Da qui la proposta di Confindustria Belluno Dolomiti, cioè quella di accelerare sulla costituzione di un polo mecatronico dolomitico, in particolare di un percorso post-diploma con l'attivazione di un istituto tecnico superiore, quelli che si chiamano con la sigla ITS. Parliamo di una scuola speciale di tecnologia post-diploma che si configura come un piccolo politecnico specializzato sulla meccatronica con un'offerta formativa di 2000 ore e dall'attività didattica fortemente improntata a lavori di progetto, simulazioni di casi, laboratori e team working. Proprio su questo fronte il 24 ottobre la Presidente degli industriali belunesi Lorraine Bertone si incontrerà con Luigi Rossi Luciani, Presidente della Fondazione ITS Meccatronico Veneto. L'articolo continua poi con le dichiarazioni della Presidente di Confindustria. Bertone sul meccatronico in particolare ci crede e afferma che vogliamo iniziare con l'anno scolastico 2020-2021. Abbiamo già fatto i passaggi necessari con l'ufficio scolastico provinciale e la nuova dirigenza dell'IT Segato che attraverso gli stati generali della montagna ha chiesto anche una deroga al numero minimo di iscritti per l'attivazione di un ITS. Continuiamo a sfogliare e passiamo a un'altra notizia che abbiamo lanciato prima, siamo a pagina 12, Don Ciotti sul Vaionte che definisce esempio di corruzione e ambiguità. Il sacerdote, Presidente di Libera, ha visitato ieri la diga e i luoghi della tragedia. La strage di Stato è una definizione corretta. Prima e dopo situazioni assurde, l'articolo e affirma di Enrico De Colle. La lezione del Vaionte deve darci la forza per fuggire dalla corruzione e per insistere con il rispetto dell'ambiente. Parole di Don Luigi Ciotti, Presidente dell'Associazione Libera, in Friuli per un tour organizzato da Don Pierluigi di Piazza e suo centro Ernesto Balducci. Prima tappa la base militare di Aviano, poi il Vaionte. sulla diga, Don Ciotti ha fatto una visita guidata con alcuni superstiti e il sindaco di Erto, Antonio Carrara, con la partecipazione di Mauro Corona. È seguito un intervento pubblico nel suggestivo spazio della sommità della frana. Io il Vaionte me lo ricordo bene, ha detto Ciotti, sono stato a Longarone pochi mesi dopo, nel 64, e mi ricordo una distesa bianca. Oggi per la prima volta sono stato sulla sommità della diga, alcuni superstiti hanno usato la definizione di strage di Stato e penso che sia un termine corretto prima e dopo disastro. Infatti vennero occultati documenti che comprovavano la non idoneità del terreno dove sorge la diga. Anche allora avevamo esempi di corruzione e falso una manipolazione a cui non è stato esente il mondo dell'informazione con le grandi firme nazionali che ritenevano incredibile la responsabilità dello Stato. Unica eccezione è stato il coraggio di Tina Merlin, la nostra conterranea. Quindi un messaggio forte, quello lanciato da Don Luigi Ciotti, ora siamo nel luogo del silenzio, ho detto ancora, un luogo sacro, ma una volta andati via da qui dobbiamo alzare la voce proprio perché amiamo l'Italia e non possiamo stare zitti. Nel taglio basso di pagina il saluto ai fedeli agordini da parte di Don Lise che ha lanciato un ultimo appello intitolato l'ospedale a Papa Albino Luciani. Intitoliamo l'ospedale di Agordo a Papa Luciani. Nel giorno del suo addio alla comunità di Agordo, Monsignor Giorgio Lise rilancia un'idea nata nel 2012 e poi lasciata cadere nel vuoto, dare il nome dei più illustri degli agordini, al nosocomio di Vallata su cui, ha detto sacerdote prossimo nuovo incarico al seminario di Belluno, molte nubi si addensano ancora. Una proposta arrivata nel corso dell'ultima omelia agordina pronunciata ieri mattina in un'arci diaconale gremita che non ha nascosto la commozione. Un addio a quello di Don Giorgio che arriva dopo dieci anni, anni nei quali ha potuto conoscere i grandi cuori degli agordini e il loro impegno nel volontariato. L'articolo è a firma di Gianni Santomaso. Andiamo a pagina 13, si parla ancora del Vaillant, un attore inglese tra i 6.000 dei percorsi della memoria. La pagina è arricchita di materiale fotografico che mostra quanto la grande partecipazione che c'è stata a questa iniziativa. Le foto sono di Giuseppe Dalia, un attore inglese appunto dicevamo tra 6.000 dei percorsi della memoria. Si tratta di Alfred Lewis Enoch che ha recitato nei vari film di Harry Potter. Nessun problema per il cambio percorso dovuto ai danni causati da Vaillant. La carica dei 6.000 sui luoghi del Vaillant con i percorsi della memoria scrive Enrico De Colle. Tantissimi gruppi si sono riversati nell'ungaronese da tutta Italia ma anche dall'estero. Tre quali anche un attore inglese che ha recitato nei vari film di Harry Potter. Fino all'ultimo ha voluto celare la sua identità. Ho conosciuto l'evento tramite l'ungaronese che ha lavorato a Londra. Ha spiegato la 14esima edizione, è stata assegnata dai postumi della tempesta Vaia con alcuni aggiustamenti logistici ma la macchina organizzativa dell'associazione dei superstiti Vaillonti Futuro della Memoria ha funzionato alla perfezione. Per la prima volta nella sua storia la partenza è stata spostata dal centro di Longarone e si è passati al ponte Campelli con appoggio logistico a Longarone e Fiere. Una novità resa sì necessaria per la chiusura di via Uberti. Leggermente accorciati i percorsi le lunghezze sono state di 9, 16 e 24 chilometri. In sostanza però il panorama è rimasto lo stesso con il passaggio nelle gallerie, sul coronamento della diga, la frana e la capattina a Erto e Casso nei percorsi più lunghi. A pagina 14 parliamo di sanità all'allarme che è stato lanciato in questi giorni. L'assessore regionale Lanzarin, come si legge nel titolo, si dice disponibile al confronto. L'assessore regionale risponde al ministro d'Inca e sollecita il governo verso una soluzione per l'ambulanza del comelico, scrive Irene Aliprandi. Non c'è alcun progetto di smantellare o ridurre servizi, tantomeno nelle aree di montagna come il bellunese. Con queste parole l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin risponde alle polemiche apparse in questi giorni riguardanti la programmazione sanitaria nella montagna bellunese, con particolare riferimento al punto di primo intervento di Auronzo. Lanzarin replica in particolare alle parole del ministro dei rapporti con il Parlamento Federico d'Inca, che preoccupato per le ultime scelte della regione Veneto nella sanità bellunese, si è messo a disposizione per un tavolo di concertazione. Il ministro d'Inca parla di disimpegno della regione, forse dimenticando che il vero problema era carenza di personale, sottolinea l'assessore. Insieme ad altre regioni, non più tardi di giovedì scorso, abbiamo elaborato una serie di proposte per intervenire e dare soluzione a questa emergenza. Dalla regione vengono rassicurazioni anche per il servizio di ambulanza del comelico, la giunta regionale sta predisponendo un finanziamento, come è già stato fatto, garanzia di servizi omologhi in altre località. Nell'altro articolo presente nella pagina c'è anche la posizione della SPI CGL sulla sanità in montagna, basta tergiversare, è venuto al momento di protestare a Venezia. Lo dicono Mauro De Carli, segretario della CGL, e Maria Rita Gentilin, segretaria dello SPI CGL, che dicono si sta assistendo a una continua riduzione di servizio nel campo della sanità, che insieme ad altre difficoltà evidenziano una forte distonia tra i proclami di dirigenti e soggetti politici, in primo luogo della regione Veneto, circa la sostenibilità della sanità in provincia di Belluno e che denunciano uno scarso interesse per i veri problemi del nostro territorio. Andiamo in centro storico a Belluno, individuati vandali, ma il problema va risolto, parliamo del teatro comunale, una zuffa tra ragazzi all'origine della rottura di un vetro della porta d'ingresso. Il sindaco vorremmo spostare la fermata delle navette, ma la ditta non ci sta. L'articolo è di Fabrizio Ruffini. Sembra che si potrà dare un volto a chi ha danneggiato una delle porte esterne del teatro comunale nel corso di una rissa, ma almeno per il momento questo non basterà a spostare le navette dei locali da quel punto del centro storico. Le navette notturne per i locali continueranno a caricare e scaricare i ragazzi davanti al teatro comunale, spiega il sindaco. Solo la ditta che effettua il servizio può decidere di dare appuntamento ai passeggeri in un altro luogo. Andiamo nel Feltrino, zona di Cesio Maggiore. Il boz è più sicuro, grazie a Lely Piazzola, dedicata dal soccorso alpino ai caduti di Falco. Inaugurata al rifugio l'area di atterraggio rimessa a nuovo, il soccorso alpino Feltrino attende tre volontari. L'articolo è di Stefano De Barba. La memoria non deve essere statica, esaurirsi in un ricordo, ma deve interagire con i presenti. E il presente, frutto della memoria per i quattro uomini del soccorso alpino vittime dell'incidente di Falco a Riogere, è una piazzola per il rissocorso rimessa a nuovo e resa più funzionale accanto al rifugio Boz, frutto del lavoro degli uomini della stazione del soccorso alpino e speleologico di Feltrè, che hanno voluto dedicarla proprio a Dario, Fabrizio, Marco e Stefano da Forno, che era membro del soccorso alpino di Feltrè. Concreti e pragmatici, gli uomini del soccorso alpino di Feltrè, prima della cerimonia, hanno trovato l'occasione di fare un'esercitazione con l'elicottero, mentre un gruppone di allievi della scuola di alpinismo del CAI di Feltrè lasciava il rifugio Boz dopo il pernottamento per cimentarsi nell'ascensione al Sass de Mura, forse un record in quanto a numero di partecipanti. La stazione del soccorso alpino di Feltrè è giovane, conta 27 volontari operativi e si prepara ad accoglierne altri tre nei propri ranghi. Stanno affrontando le selezioni in questo periodo. Chiudiamo il Corriere delle Alpi e andiamo ad aprire il gazzettino. Andando, purtroppo non funziona il caricamento, allora lo prendiamo direttamente dal sito utilizzando lo sfogliatore. Scusate per i disguidi di questa mattina. Andiamo alle pagine dedicate al bellunese, anche se il caricamento è davvero molto lento. Un attimo di pazienza che arriviamo. Allora, ce l'abbiamo fatta. Il gazzettino apre con il tema sanità, le strategie della regione, l'assessore Lanzarin, sui casi di Auronzo e Comelico. Non c'è alcun progetto di ridurre i servizi in montagna. Punto di primo intervento. Il governo ci venga incontro. Ambulanza, stiamo predisponendo il finanziamento. Yvonne Toscani scrive. Non c'è alcun progetto di ridurre i servizi nelle aree di montagna, delle quali abbiamo sempre tenuto in considerazione la specificità. Così l'assessore regionale alla sanità, Manuela Lanzarini, interviene dopo i casi del punto di primo intervento di Auronzo e l'ambulanza del Comelico a forte rischio e dice Auronzo è nostra priorità non lasciare un'area così importante della montagna bellunese senza un punto di primo intervento. A fronte di una carenza di personale, ogni via è percorribile. Attendiamo spiragli da Roma. Sempre dalla prima del gazzettino, ieri la camminata in ricordo del Vajonti, in 6.000 sui percorsi della memoria. Foto, grande foto, in cui si vede il grande numero di partecipanti. Andiamo a Belluno. Assalito dal cane mentre è a pesca, paura in riva al piave, vittima il coordinatore delle guardie del bacino, 8. Poteva andare molto peggio, Fabiano Fontanive, coordinatore delle guardie del bacino di pesca, numero 8. Sabato se l'è vista brutta. Assalito da un cane libero lungo il greto del piave, l'uomo è rimasto illeso solo grazie ai lunghi stivali di gomma da pescatore che indossava. L'animale ha morsicato più riprese la calzatura, ha affondato i denti nella gomma, riuscendo a penetrare fino ai pantaloni e ha strattonato l'indumento rompendolo, ma senza ferire la gamba. Sempre dalla prima, il depuratore riaccende il consiglio a Limana. Andremo a leggere questo articolo, visto che è una tematica di cui non si parla da un po' di tempo. E a Tambre, brutta notizia, un veneziano stroncato tra i boschi, un malore fatale. Questa è la causa della morte di un veneziano trovato ieri privo di sensi attorno alle 18.30 da alcune persone in località Val Manera in Cansiglio. Mentre chi era sul posto iniziava le manovre di rianimazione seguendo le indicazioni della centrale operativa, una squadra del soccorso alpino dell'Alpago si portava sul posto insieme all'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, purtroppo in vano. Andiamo all'articolo relativo a Limana e al tema depuratore che era a pagina 4 dell'inserto di Belluno. Eccoci qui. La politica non assolve l'impianto di Baor che il depuratore perdonato dal giudice è ancora al centro di battaglie in Consiglio. L'articolo è di Federica Fanti, il depuratore di Limana torna in Consiglio Comunale e i toni, anche dopo tutti questi anni, rimangono accesi a sollevare la questione. Un'interrogazione del capogruppo di Limana, Prospettiva Futura, Matteo Trojan, che ai tempi dell'esposto era consigliere comunale durante l'amministrazione di Mario Favero. La vicenda si originò quando l'ufficio tecnico, nel rilasciare un permesso edilizio, si accorse di un problema di distanza del depuratore dalle abitazioni. Considerato che da diversi anni, chiede la minoranza, si discute sulle possibilità di coprire il depuratore, dal momento che lei stessa, sindaco, ha dichiarato in campagna elettorale che avrebbe iniziato il nuovo mandato con quest'opera, che si sono sentite voci che potrebbe essere il BIM, GSP, a intervenire. Tale opera andrebbe a beneficio solamente di alcuni privati cittadini e non di tutta la collettività, ha detto Trojan. Ferma, decisa e quasi piccata, la risposta del sindaco Milena De Zanette, che ha ricordato come, da anni, si discute della questione da quando l'amministrazione, di cui faceva parte Trojan, ha presentato un esposto in procura, avviando il procedimento penale, poi conclusosi con un nulla di fatto. Sembra ci si stia avviando ad una soluzione, con un progetto di GSP, finanziato dal lato, scusate, con 150 mila euro, rileva De Zanette. Mi spiace constatare la poca sensibilità nei confronti dei cittadini quando Trojan si riferisce, riferisce che l'opera andrà a beneficio di pochi, quindi polemiche in consiglio comunale. Con questo articolo andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi, vi aspettiamo puntuali, domani, sempre alle 8.30, sulle frequenze di Radio Piave, pochi minuti più tardi, in video, sulla pagina Facebook dell'Amico del Popolo. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata. A presto. Grazie a tutti.